Allora, buonasera amici di Radiofonica.com, siamo qui nella nostra trasferta serale della radio proprio a Ponte San Giovanni, all'ex mattatoio, al centro sociale autogestito in occasione di un festival molto particolare che è il Cosmic Octave organizzato da questa associazione culturale di ragazzi che si chiama Awe318 che stasera ci offre un attimo una panoramica su quel cosmo, un po' della musica indipendente italiana diciamo sul lato oscuro, un po' lontana da quella un po' più patinata dell'indie che normalmente sentite in giro e che anche stasera a Milano si sta esprimendo nel Miami Festival Allora, la serata prevede in realtà tre tra delle realtà più underground del genere comunque stoner rock e psichedelico italiano i primi ad andare il sul pacco infatti sono i Mold On Your Soul, i Vibe Double Zero, gli Orange, Blossom, Jam e infine proprio i The Whirling, i ragazzi che vede qui accanto a me quindi ragazzi benvenuti innanzitutto, è un piacere vedervi in Umbria per la prima volta i Whirling sono una realtà che è già abbastanza affermata nel panorama underground aquilano attivi dal 2009 che stasera ci presentano il Full Lent Beyond The High Leads e quindi ragazzi vi chiedo immediatamente uno di presentarvi due di parlarci di come sta andando la promozione dell'album e l'attività live partiamo da Diego a questo punto Ciao, io sono Diego Lachioma, sono il bassista Giulio, batteria Andrea, chitarra Mattia, chitarra Allora, chi vuole parlare per dirti di come sta andando questa attività? L'attività procede bene, stiamo con il secondo album all'attivo e vediamo di promuoverlo un po' per fatti nostri andando rompendo le scatole in giro ai contatti che abbiamo quindi siamo lungo il percorso c'è una buona risposta, sembra che la crescita venga apprezzata e andiamo di sperimentazione Ottimo, ottimo, ottima infatti parlando proprio del vostro album ovvero di Beyond The High Leads ho visto che ha ricevuto delle ottime recensioni su alcune riviste, webzine e blogspot di genere importanti come Stoner BX e Perché It e volevo chiedervi al riguardo infatti come vi rapportate alle recensioni nel senso che ultimamente è cambiato il rapporto un po' tra la re-thunderground e l'internet diciamo nel senso che c'è un feedback che arriva immediatamente dal pubblico che vi ascolta e streaming che ha la possibilità quindi di ascoltarvi streaming e vi volevo chiedere cosa preferite quel tipo di feedback dato dall'ascolto di un brano e streaming dal vostro pubblico o il feedback consueto comunque che poi ottenete dal pubblico ascoltando gli stessi pezzi magari dal vivo però è una dimensione che è decisamente diversa beh di sicuro la dinamica online ci permette di raccogliere delle soddisfazioni come degli ascolti a distanze particolarmente elevate sentire qualcuno che apprezza la nostra musica da un'altra parte del mondo dà sempre la sua soddisfazione naturalmente viviamo del suonare attivamente quindi siamo per assurdo un po' ancora indietro nel trovare date di un certo tipo in ogni caso rispetto alla dinamica della risposta web se ne occupano nello specifico Andrea e Giulio quindi vi chiedo a voi ragazzi com'è? Cioè siete felici del risultato? ci si può lavorare ancora? io tra l'altro ho trovato il vostro album tra i Russian Circle e i Radio Moscow per cui in realtà in mezzo poi ai grandi del panorama che in tutta Europa comunque sta trovando una discreta fortuna sì ovviamente fin quando le recensioni sono positive a noi ci va benissimo e di questo non ci lamentiamo i feedback sì sono tanti e ovviamente banalità ripeterlo ma le opportunità del web insomma permettono di raggiungere in tempo reale tutto il globo e gran parte soprattutto e degli ascolti e delle vendite soprattutto online avvengono unicamente all'estero insomma un paese dove suoniamo è quello che ci ascolta di meno rispetto agli altri come al solito e tu Matti che ne pensi tra l'altro delle 41.798 visualizzazioni ad oggi di Calcutta che tra l'altro è un brano dell'altro album per cui che vi rappresenta anche una fase che ormai è un po' distante anche di quello che è il suono attuale quando vediamo i commenti su Facebook o su YouTube tipo come to San Francisco come to Australia ovviamente ci fa piacere però è bellissimo vedere che la nostra musica anche grazie al fatto che è strumentale riesce a raggiungere altri continenti però quello che ci piace di più credo sia suonare live suonare in giro insomma suonare per le persone c'è anche tanta improvvisazione tanta jam in quello che facciamo quindi penso che il massimo lo diamo con il live infatti la nostra ambizione è riuscire a suonare il più possibile in giro a questo punto anche fuori dall'Italia visto che se ci apprezzano anche di più lì cerchiamo di raggiungerli in qualche modo giusto poi tra l'altro parlando di questo genere io ho sempre notato che c'è una particolare ricercatezza per quella che è la componente artistica, visuale e l'artwork anche dei vari gruppi io so tra l'altro che uno di voi che si occupa principalmente dell'artwork dato che siete musica strumentale principalmente vi esprimete attraverso il suono volevo chiedere quanta importanza a un certo punto c'è nella componente visuale se in qualche modo vuole suggerire o meno qualcosa di quello che ogni volta è il vostro album una determinata canzone quindi se in qualche modo è un compendio o invece è sviluppato in maniera totalmente a sé stante di sicuro il lavoro di tutta la parte grafica è più una conseguenza di quello che facciamo di fatto io realizzo quello che comunque viene fuori dall'incontro di tutte e quattro le mentalità quindi l'approccio viene dal fatto che ce la godiamo veramente alla stragrande e ci piace creare tutto il contesto affinché venga goduta al meglio pure dagli altri quindi dai visual proiettati alle foto a futuri videoclip infatti aspettiamo, aspettiamo con ansia devo dire un'altra domanda volevo chiedervi dato che parlavamo proprio di quanto sia in qualche modo concettuale la vostra musica e per il fatto che poi si dice sempre che uno è il risultato di tutto quello che ha visto di tutto quello che ha sentito e ascoltato devo sapere quanto del vostro background culturale entra nella musica The Weirds e in qualche modo come lo riflette poi? beh basta parlare con ognuno per vedere da dove veniamo come ascolti abbiamo delle attitudini abbastanza diverse le mescoliamo e penso che quello che suoniamo si senta che venga da alcozzare di più personalità basta, cioè Giulio suona hardcore, genere completamente diverso sì, noi veniamo da generi parecchio diversi e proprio quella fusione come diceva Diego è quello che probabilmente ha reso abbastanza interessante il lavorare sui nostri pezzi e il cercare un'amalgama che non sia comunque soffocare del tutto quelle origini però comunque sia allo stesso tempo cercare di creare un sound che sia coerente comunque che abbia una sua validità in quanto tale non una frammentazione di vari generi ecco certo e una domanda invece ad Andrea e Mattia Beyond the Dailys, perché? cioè da che è nata l'idea del titolo come si lega in qualche modo anche alle canzoni che ci sono dentro se ci si lega ci si lega dal punto di vista, sì, tematico sicuramente noi scervellando, dovendogli dare un titolo alla fine di tutto al disco scervellandoci su quale poteva essere insomma la cosa che ci accomunava un po' abbiamo detto ma fondamentalmente la prima esperienza psichedelica della vita che si fa insomma di visione, di non dico proprio allucinazione con quale è per rifarci alle origini e insomma ad un certo punto abbiamo trovato il punto d'accordo che era quel giochetto che si faceva da piccoli premendosi con le mani sugli occhi e vedendo insomma le lucette, sci e cose simili e quindi abbiamo detto vabbè fondamentalmente l'origine forse è dietro alle palpebre mi fa piacere avete condiviso con me quell'esperienza da sociopatico di guardarsi comunque in quelle situazioni e un'ultima cosa invece, un'ultima domanda per chi dovesse approcciarsi per la prima volta a voi stasera e in qualche modo trovare stimolante e me lo auguro questo tipo di sonorità vi chiedo a ognuno di voi almeno 5 dischi che in qualche modo un po' rappresentano il genere e un po' in qualche modo li ritenete responsabili della nascita anche del progetto e comunque nasce abbiamo detto da un ascolto compulsivo di musica partiamo da Mattia a sto punto un disco Electric Ladyland andiamo sul classico buono apprezziamo Andrea? io Dead Meadow dei Dead Meadow da cui il nome della band? ma sarà banale ma The Dark Side of the Moon Pink Floyd beh loro due mi hanno fregato le risposte che avevo pensato per prima e per emergenza quindi non lo so gli 883 ce li teniamo come chicca intima sono veramente in difficoltà potrei citare il primo album dei Black Mountain si begli ascolti ragazzi vi consiglio di darci un occhio e un'ultima domanda progetti futuri collaborazioni per un altro album o comunque anche concerti live di particolare rilievo nei prossimi mesi almeno per seguirvi e il 19 parteciperemo al Cool Tube Festival a Pescara aprile il 19 aprile sì quest'anno ripartiremo sarà un'edizione veramente figa perché saranno i Samsara Blues Experiment insomma vari altri gruppi che per noi rappresentano comunque punti di riferimento questo per quanto riguarda i live abbiamo in cantina diciamo in cantiere pezzi futuri su cui stiamo lavorando qualcuno lo stiamo cominciando a proporre dal vivo per rodarlo vediamo un appuntamento che possiamo lanciare forse quest'estate sarà un concerto open space tra le montagne aquilane ottimo quindi grande grandi prospettive al momento beh a questo punto noi ci andiamo a godere il concerto ringraziamo i ragazzi dei The Whirlings e voi amici di Radiofonica per averci seguito anche in questa trasferta notturna qui è Serriaco patrono di Golconda buona serata